Burloni, bentornati in questo nuovo episodio della Big Vanilla 2 Ovviamente sono dietro casa mia perché come ben sapete questa settimana Devo passarla nella casa del terz'ultimo che in questo caso è che noia Ma amici belli, come state? Spero tutto bene Allora, oggi abbiamo da fare un sacco di cose, quindi mettetevi comodi, popcorn, patatine Se siete dalla tv, sono gigantissimo Ciao! Allora, oggi che cosa facciamo? Come ben sapete, se avete già visto il video di Seveferè, se no ve lo dico di un attimino adesso Questa settimana abbiamo una sfida molto particolare Perché praticamente dovremo ricreare un bioma Tramite quattro biomi che verranno scelti tramite la ruota della fortuna Noi abbiamo già fatto tutto E saremo divisi in team da quattro Ora vi dico il mio tema e anche il mio team Il mio tema sarà fare un bioma di mushroom Quindi il bioma dei funghi Quindi dobbiamo oggi andare a cercare il bioma dei funghi Ma vi racconto come sono riuscito a scovare le coordinate Seconda cosa, il mio team è composto da Marci, Nico, da Loki e da Sparks Quindi abbiamo un bel dream team Perché Sparks si sta veramente dilettando bene con le costruzioni Loki sta tornando a registrare Quindi sono felicissimo anche di questo E ovviamente io e Nico andiamo super d'accordo E poi c'è uno io che sono il master builder della Big Vanilla E master builder anche italiano, ovviamente Allora, che cosa dobbiamo fare? Noi avremo 8 ore per fare un bioma dei funghi In un bioma che non è dei funghi Quindi dovremo trovare un'isoletta Che ci permetterà di andare a, diciamo, distruggerla tutta E farla diventare fungosa Poi voglio fare delle case con i funghi Poi voglio fare un fungo gigante Insomma, ragazzi, preparatevi per chiamarci Questa volta vi dovrà stupire tantissimo Ma oggi la prima cosa che dobbiamo fare È andare a trovare il bioma dei funghi Perché dobbiamo catturare il micelio Dobbiamo portare all'interno dell'overworld Anche le mushroom ko Quindi le mucche mushroom Insomma, abbiamo parecchie cose da fare Ma partiamo in ordine Perché le mie elitra si stanno ben rompendo Cosa ho quindi deciso di fare? Devo andare assolutamente a scambiare con i miei bellissimi villager Un bel unbreaking 3 Così ce lo metto su e siamo veramente a posto Chiaramente appena avremo un po' di ore in più Penso che andrò nel land e mi farò la full armatura Perché non è che abbia l'armatura migliore del mondo Se devo dire la verità Però ce la facciamo comunque andare abbastanza bene Allora, in teoria Io ho già degli smeraldi qua dentro Ora, in teoria quello con unbreaking Dovrebbe essere... Fortuna 3, Blast Protection, non sei tu Ma sei tu per caso? Eccolo qua, unbreaking 3 Prendiamo subito questo bellissimo libro Ce ne torniamo su immediatamente Io riesco... Aspetta, devo spaccare anche questo Ah cavolo ragazzi, non ho le incudini Perché le incudini si trovano all'interno di casa mia Questa cosa è un bel problema Forse a casa di loco posso trovare un incudine Non ne sono certo di questa cosa Ma sicuramente mi conviene andare a controllare la casa sua Perché ricordatevi che la legge è che io non posso necessariamente entrare dentro casa mia Quindi purtroppo non posso Allora, una piccola incudine il signor Locos Non ce l'ha Ma secondo me ce la potrebbe avere il signor Nico Ah no, eccola qua l'incudine Grazie Locos Scusami tanto se te la sto utilizzando Sbam... No, si è rotta Devo rifarglia Vabbè, tutto tanto lui ce l'ha a farm Quindi dai, siamo abbastanza messi bene Come razzetti siamo messi a posto E ora vi dico una cosa Io le coordinate dei funghi Ce le ho Perché? Dottor Cat mi aveva chiesto due libri con Sictac Io essendo che li avevo Io li ho scambiati E mi fa Oh, ma io ti do il bioma dei funghi Che dici? E io ho detto Senti, ma a me va benissimo come cosa È abbastanza lontano Perché si trova a meno 10.900 A meno 5.100 E voi direte Marci, ma come capperi potresti andare a trovare tutta questa roba? Molto semplice ragazzi Faremo un sistema di portali all'interno del tetto del nether Quindi ora mi serve solo trovare una bella pozza di lava E andare a prendermi tutta la lava possibile e immaginabile Facendola diventare ossidiana Ai 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 Era questa la pozza di lava Ma chiaramente è diventata È stata tolta tutta Eccola Qua ce n'è un'altra ragazzi Ma mi sa che siamo fuori dal Eh sì, siamo fuori purtroppo ragazzi Vabbè, chi se ne frega Dobbiamo sprecare per forza qualche minutino per farsa roba qua A noi ossidiana ce ne serve tantissimo Alla fine amici ho deciso di prendere tutta l'ossidiana che c'era all'interno della pozza Perché ho detto Ma sapete che vi dico Ma tanto che senso ha lasciarla qua Ma a parte che non me la prende l'acqua Non so se siete accorti Ma Ah no, perché praticamente ho la mod Sì Quella della sistemazione dell'inventario Bene Allora l'ossidiana ce l'abbiamo Passiamo a prenderci le ender perla Prima di andare vi dico subito una cosa Mi sono appena arrivate delle nuove coordinate del bioma dei funghi Tramite qualche scambio che vedrete negli altri video Allora quelli che mi aveva dato Dottor Kett erano Meno 10.900 E meno 5.100 Che era abbastanza lontano Perché diviso 8 Sapete che se volete viaggiare nel nether E poi ritornare nell'overworld Bisogna fare le coordinate diviso 8 Ecco Era meno 2.300 600 Nel nether Quindi tantissimo Mi sono state passate queste coordinate qua Meno 320 Meno 6.700 Il che vuol dire Meno 40 Meno 841 Quindi siamo letteralmente vicini comunque raga Quindi questa è la cosa più importante Me ne stavo andando raga Però senza avere un bellissimo flint and steel Perché il flint and steel Io l'avevo regalato al nostro amico loco Quindi meno male che me ne sono accorto Se no me ne andavo senza flint and steel Quindi torniamo a prendercelo magari a casa di Martina Che ne ha uno Flint and steel Craftato E possiamo andare subitissimo nel nether Allora noi in teoria ci siamo già stati sopra il nether Quindi dobbiamo cercare di capire un attimino Se mi ricordo la strada per salire sopra Ora Se non sbaglio Avevamo fatto la stradina di qua Però qua non vedo più niente Perché non c'è più Oh mamma mia ragazzi Ma che avete combinato qua Raga domanda Ma chi è che mi ha rotto il mio portale del nether Scusatemi Me ne sono reso conto in questo esatto momento Vorrei capire chi è che l'ha rotto Perché forse l'avevano delincati E quindi hanno deciso di rompere il mio Io non molto contento di questa cosa Devo ammetterlo Eccoci qua ragazzi Nella zona della bedrock Ora dobbiamo trovare la parte più alta Se non sbaglio Il target block dovrebbe essere 127 Se non sbaglio Quindi vuol dire che ce n'è uno più in alto sicuramente Tipo in questa zona qua Dovrebbe essere 127 Ci mettiamo delle bellissime scale Ok 1, 2 e 3 Qui dobbiamo essere chiusi sul lato Quindi così E andiamo a fare una roba di questo tipo ragazzi Qui andiamo così E siamo sopra il nether Perfetto E dobbiamo andare a Meno 40 Meno 40 Ci siamo già Meno 841 E ci siamo quasi Amici belli Siamo a 700 Forse ci basta anche solo questo razzettino qua Vediamo un po' Ecco raga Precisi precisi Meno 40 Che è di qua Meno 40 Meno 841 Quindi siamo esattamente nella parte corretta Quindi ossidiano la mano 1, 2 Qua ovviamente Non sprechiamo per favore ossidiarla Perché non aveva niente senso 1, 2 e 3 1, 2 e 3 Poi facciamo così 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 E così E in teoria amici belli Bisogna fare questa roba qua Perfetto Vediamo un po' Se non ci hanno trollato E che quindi siamo in un bioma dei funghi Davvero Sono proprio curioso E ci siamo Porca paletta ragazzi Bioma dei funghi Qua ragazzi Dobbiamo necessariamente Prendere Tutto il micelio Che possiamo Qui purtroppo Non ho silk touch Potevo farmelo il silk touch Effettivamente Però molto interessante Anche perché Possiamo portarci Molto tranquillamente Anche la nostra Bellissima Mushroom Co Anzi guardate che vi dico Lo facciamo subito questo Lo facciamo subito Tanto tecnicamente Ci vuole veramente Un attimo Siccome ragazzi Ho saputo Che valgono anche Le varianti dei mob Per fare punti All'interno Del museo Io ragazzi Ho un sacco di tropical fish Ora Non Io non so cosa ne pensate voi Ragazzi Però Cioè se ce li ho Le posso utilizzare A mio avviso Ok facciamo così Mettiamo questo qua qua E facciamo una bellissima scaletta Che ci porta Verso su Ora bisogna capire dove mi porta Secondo me Quel portale del nether Che faremo là sopra Mi porterà sopra a casa mia Meno 40 ce l'avamo già Dobbiamo andare semplicemente di lì Vamo sotto 100 blocchi Ma se tipo io volo Lei mi segue Secondo me non mi segue ragazzi Quindi è meglio evitare Tanto dai ci si mette poco Ed eccoci qua a casa amici Belli Allora facciamo così Tecnicamente io penso Che esponeremo nel mio portale A casa 2 3 1 2 3 Ehm Speriamo in realtà ragazzi Non è detta questa cosa Che esponiamo in quello di casa Vediamo un attimino Sono proprio curioso No questo non deve andare qua Ehm Campione vieni qua dentro tu Vediamo se riesci a spawnare di là No perché non si è ancora generato Ok capito Aspetta la lead me l'ha ridata Sì prima devo generare io Porca misera Può essere che Non mi faccio spawnare nel mio portale E infatti Oddio ma dove siamo spawnati Ok Questo potrebbe essere un gran bel problema Questo è un enorme problema Ah ragazzi Molto lontano Molto molto lontano Allora un attimino che cerchiamo le coordinate qui Così a questo punto Lo facciamo spawnare direttamente qua dentro Mi sembra l'ideale Scusate Eh a sto punto Ok ragazzi Meno 29 Meno 31 Ora però devo ricordarmi Dov'è che è spawnato Non mi ricordo più raga Dov'è che eravamo Ah ok siamo spawnati di qua Belli lontani Devo dirvi la verità Belli belli lontani Andiamo a vedere dov'è che eravamo spawnati là Cavolo qui eravamo proprio Tanto lontani Meno male che non è Non è spawnata la mucca a questo punto Allora siamo a meno 50 Ecco perché ragazzi Allora facciamo così Con calma Spacchiamo Tanto alla fine Meglio non averlo già fatto Il portale Ok Meno 21 Meno 29 E meno 31 Quindi di qua Meno 29 E meno 31 Sta di qua Ok Ok Questa è la zona giusta ragazzi Sono uno più in alto Chi se ne frega Allora 1 2 3 1 1 2 Buttiamo giù questo 1 2 Cosa Possiamo fare Anche più zone Diciamo fungose Ma iniziamo andando prima in quella che ho trovato Le coordinate sono abbastanza lontane Quindi anche in questo caso Andremo a fare il sistema di portali Nel nether Importantissima questa cosa Però io furbo come sono Posso andare direttamente da casa mia Perché da casa mia adesso si spola direttamente Nella parte alta del nether Le coordinate del quale dobbiamo andare sono 560 767 Quindi di qua Di qua Tutto praticamente dietro di qua Bisogna andare Ok Sì Andiamo 560 767 Ed eccoci qua 560 Andiamo leggermente più indietro 767 Perfetto ragazzi Sì esattamente qua dove dovrebbe esserci l'isola Ora Spero ragazzi che mi sono segnato le coordinate giuste Perché ieri siamo andati a cercare gli oceani A parte che abbiamo trovato un sacco di biomi caldi Tutte queste cose qua Ma la cosa che appunto ci mancava Era un bioma di un oceano con un'isoletta C'erano sì isolette piccole Ma isolette grandi Cioè Zero C'erano isolette giganti Ma grandi no Erano proprio solo giganti Quindi vediamo un po' se questa È la parte giusta Ho appena sbagliato a fare qualcosa Meno male che ho il piccone forte Sennò veramente impazzivo E vediamo un pochettino Se questa è la parte corretta Attenzione Eccoci qua Oh Subspace bubble Sembrerebbe sì Ok È esattamente questa qua Ragazzi Intanto abbiamo fatto un bellissimo cosa Usa il nether per viaggiare 7000 km Fantastico ragazzi Allora questa qui dovrebbe essere l'isola ragazzi Ve la faccio vedere per bene Non è grandissima chiaramente Perché non può essere grande un'isola Se abbiamo solo 7 ore Ma Da questa parte 2 min Da questa parte Se non sbaglio Di qua Esattamente di qua Dovrebbe esserci addirittura Un'altra isola Che possiamo utilizzare Vedete È una doppia Un'isoletta Un pochettino più grande Che possiamo utilizzare Per fare magari Che ne so Una seconda isola Potrebbe aver senso Fare tipo un ponte gigante Che da qua ci collega All'altra parte Insomma Tante cose si possono fare Ma è meglio iniziare Chiaramente da poco Perché se facciamo una roba Troppo gigante E fatta male Non ha senso Meglio poco Ma fatto bene Che grande Ma fatto male Amici Io spero che il video vi sia piaciuto Abbiamo fatto veramente Tante cose oggi Qui ci sono da portare Le mushroom co In questo momento Adesso le porterò io Chiaramente Facciamo un po' di roba E ci sono da spaccare Un bel po' di alberi Sì Ma proprio Tanti alberi Effettivamente